Sono arrivata la con mezzo, cosa succede io? Mi lascia, mi lascia bene L'ho stata via a urlare tutta la piccola Allora è che mazza, c'è una calcita, andiamo Mi fa lo stivale Mia madre ha fatto una calcita che si rimette la scarpa Ma la scarpa, c'è la scarpa no Tau mi ero fatta prenderla, l'era stanissimo Non le senti mai, poi tu me lo fai Che se ne hai fatto? Stai facendo il video? No, no Riprendo il momento di giubilo per la canzone Cantiamo noi Un po' che fianco Sentirà? In meditazione Un po' che fianco Un po' che fianco Un occhietto lucido con le dici La sentita dalla montfali Ma le fianco Ma le fianco Si è venuto a trovare Bill Incredibile ma vero Non c'è qua con noi ma c'è Con lo spirito Sì, lo sento proprio dentro di me. Io no. Quando ha cantato al festival bar con il giacchettino usava la mia. Che meraviglia. No, bianco era. No, eri in ufficio, guardavo il video e così. Ho detto, questa è una donna. Aspetta lì che lo scoperto, la sette la bar. Perché la finale stanno già. Faccio, 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 faccio. Faccio, faccio, faccio. Faccio, faccio. Fatto. Cioè, la mattina, la mattina ero qua. No, no. Era in 2065. E lì ho, cioè, li ho visti la prima volta dal vivo. Però erano sopra il colto. E c'è la porta, il vento tutto pieno che si vede. Sì. Dovevano fare anche l'attività. Ma quando c'è l'acqua, perché forse non cacciavano il tempo, dovevano andare a Verona. Non c'è la porta, perché forse non cacciavano il tempo, dovevano andare a Verona. Non c'è la porta, perché non cacciavano il tempo, dovevano andare a Verona. È finita. È finita. È un dito. È un dito. Vediamo cosa dice. È un dito. Niente, le radie sempre sì. Sempre.